Erano circa 70 i mezzi d'epoca tra auto, pullman e moto che stamattina sono entrati rombando in piazza Bra. Alcuni quasi centenari e altri più giovani si sono riuniti per partecipare all'attesa 17esima edizione della Befana del Vigile. Ad attenderli all'imbocco della piazza infatti c'era un vigile vestito con abiti d'epoca che ha diretto il traffico e raccolto ai suoi piedi i tanti doni destinati meno fortunati. Oltre alla sfilata di mezzi d'epoca a partecipare alla donazione sono stati anche i ciclisti di FIAB, un gruppo di podisti della Straverona e anche alcuni cittadini. Presenti al tradizionale evento benefico organizzato dalla cooperativa a San Zeno, il sindaco Sboarina, l'assessore Polato e il comandante della polizia locale Luigi Altamura. I doni raccolti durante la mattinata sono stati consegnati alla mensa dei poveri dei frati di San Bernardino.